Presidio Free Palestina in Piazza della Repubblica, a sostegno della Palestina Libera, organizzato dal Centro Sociale TNT di Iesi, in collaborazione con Yabastamark e l'Ambasciata dei Diritti di Iesi. In piazza, per lo svolgimento della manifestazione, si sono alternati i cori di Palestina Libera agli interventi degli organizzatori e della popolazione islamica presente. Anche gli italiani, oggi impareremo l'arabo e gli italiani. Palestina, ora! Palestina, ora! Palestina, ora! Palestina, ora! Libera Palestina! Siamo tutti per la Palestina. Io nella mia famiglia ho dei martiri, nella mia famiglia ho dei martiri e loro sono qua, loro sono qua. L'insegnerò dei martiri della nostra famiglia, lo insegnerò a mio figlio, mio figlio lo insegnerà a suo figlio e non ci scorderemo mai, al vecchio primo ministro israeliano che aveva detto questa frase, noi non ci scorderemo mai della nostra terra. L'obiettivo degli organizzatori è stato quello di fare sentire la propria voce anche a Iesi per il popolo palestinese, per chiedere la fine dell'assedio di Gaza e la cessazione dell'occupazione dei territori palestinesi. L'appello è quello di fermare le uccisioni dei civili inermi e soprattutto dei bambini, ribadendo che non è possibile bombardare gli ospedali. Mi chiamo Abit Shorkar, Abit Aesi, il nostro paese è Bangladesh. Oggi arrivo qui, c'è la manifestazione a Palestina, a Palestina tanti gentili morti, 11.000. E continueremo a resistere e io ve lo giuro che continueremo a resistere e che il popolo palestinese continuerà a resistere perché resiste da 75 anni e non smetterà mai di resistere. La resistenza è un diritto sacrosanto. La manifestazione è stata molto partecipata permettendo di fare riflettere tanta gente che ha assistito all'evento. Palestina libera!